Siamo ormai a pochi giorni da Natale, un augurio, una raccomandazione ai suoi concittadini e ai nostri telespettatori? Natale ci richiama sempre quella solidarietà dell'accoglienza, come è stato accolto nostro Signore, pur avendo un vuo e un asinello per riscaldarsi quella grotta, ma vuole essere veramente un auspicio la benedizione che abbiamo dato e l'inaugurazione questa mattina, perché purtroppo lo sappiamo e ci sono altre correnti di profughi che possono approdare ancora le nostre terre. Non dimenticando i poveri che abitano magari nelle nostre periferie e allora per ognuno che ci sia la possibilità di un aiuto concreto, materiale, come avete visto, quello che è stato realizzato qui.